Soprattutto per la messa a reddito come uso turistico. Siamo in piano terra, quindi molto comodo. L'ingresso è veramente molto bello. Entriamo nell'appartamento. Qui sono stati creati tutti questi armadi contenitore. Poi si può anche pensare a una diversa distribuzione degli ambienti. Ecco, già da qui vediamo che abbiamo un altro ingresso sull'ungarno. Poi giriamo a destra, bagno. Questa zona comune attualmente utilizzata come cucina. Qui abbiamo lo split. E andiamo nella prima camera, che è quella che dà su Via di Tripoli. Ecco lì vediamo la finestra. Torniamo all'ingresso. Qui c'è una zona ripostiglio. Allora, siamo ritornati all'ingresso. Quindi là vediamo il primo ingresso su Via di Tripoli. E qui invece c'è l'ingresso sull'ungarno, dove abbiamo tantissima luce, una camera. E qui abbiamo una seconda finestra. E un altro bagnetto con quest'altra finestra. Poi si può sempre ovviamente vedere una diversa distribuzione degli ambienti. Per esempio qui fare un bagno più grande. Molto interessante. Molto interessante.